Il problema, e ve lo dico da nonno, è che la vostra iperprotettività che si esprime nella realtà non virtuale, naturalmente come tutte le cose diventa anche virtuale. Vietare non è educare, educare significa affiancare, spiegare, capire, ascoltare e ricordatevi che vietando ai vostri figli le cose, le vietate a voi stessi, ma non a loro, perché loro se le prenderanno a vostra insaputa e voi non li avrete accompagnati nell'educazione, all'uso, al buon uso della vita, perché internet, i cellulari, i tablet, i computer, sono la nostra vita, non possiamo escluderla.